Abbiamo un'altra bellissima creatura di Bertone, una Alfa Romeo Montreal, bellissima carrozzata da Bertone, motore 8 cilindri a V, 2005 di cilindrata, 200 cavalli, 220 all'ora, 7,1 da 0 a 100, 27,5 sul chilometro, una vettura bellissima che purtroppo non è ben successo che avrebbe meritato, è stata costruita in poco più di 3.000 esemplari, proprio perché l'Alfa ha commercializzato un po' in ritardo, quindi è stato troppo prima dell'uscita. Il motore era un motore 2005 8 cilindri derivato dalla 33, un motore eccezionale, l'unico punto e tallone da kill era l'iniezione spicca, che purtroppo creava dei grossi problemi e pochi riuscivano a metterci le mani, qualcuno la metteva anche a carburatori, ma lei nasceva esclusivamente iniezione. Grazie. Io conosco gente che ce l'ave, ormai ha avuto problemi con l'iniezione, basta tenerla bene.